Quindi abbiamo una nazionale che è riuscita a qualificarsi per le Final Six in Argentina che si terranno a breve la prossima settimana e quindi questo è già un grandissimo traino l'orgoglio di avere in quel gruppo della nazionale un giocatore di Roma Ivan Zaitsev quindi c'è questo pezzo del movimento che deve creare entusiasmo e l'altra ricetta è quella di essere come dicevo vicino alle società cioè la pallavolo è uno sport che ha un pubblico soprattutto di praticanti e quindi sono i praticanti che vanno stimolati, vanno resi meno pigri e quindi su di loro ci stiamo concentrando con delle campagne di comunicazione e soprattutto di eventi Da intenditore di volley adesso già un campionato mondiale calcisticamente parlando è andato a farsi un bagno crede che, visto che parlava poc'anzi della nostra nazionale che l'Italvolley possa riscattare la figuraccia sudafricana per quello che riguarda naturalmente i prossimi campionati mondiali? Ma credo che l'Italia abbia come squadra l'obbligo di giocarsela veramente alla morte essendo il paese ospitante per fare questo credo ci sia l'indispensabile necessità di avere un pubblico come quello di Roma che sa essere caldo, sa essere il settimo giocatore in campo, sa essere trainante sa essere fortunato, visto che le due manifestazioni che si sono tenute prima di questa le manifestazioni internazionali a Roma e il mondiale nel 78 e gli europei più recenti hanno visto la nazionale protagonista ma l'hanno vista perché c'era un pubblico, perché c'era una città che ha saputo dimostrare a tutti quelli che pensano che Roma sia un'entità abnorme e distaccata dall'Italia invece di essere la prima tifosa, il primo supporter dell'Italia ecco di questo ha bisogno la nazionale italiana, del grande pubblico di Roma Visto che mi ha dato l'assist, io ne approfitto, rimango in tema volley però le chiedo qualche cosa della M Roma, insomma ritorno importante in Serie 1 Qual è il futuro nero-verde a breve e medio termine? Beh, a breve e medio termine oggi sono usciti i calendari per cui sono le squadre che incontreremo la ripresa sarà intorno al 15 di agosto ma la ripresa vera degli allenamenti con la squadra a ranghi intera sarà dal primo di settembre quindi i ragazzi stanno ancora in vacanza ho parlato personalmente con tutti i nuovi acquisti, sono tutti entusiasti è un bel mix di persone, di giocatori di esperienza e che vogliono far vedere a Roma e all'Italia che hanno ancora tanto da dare e di giovani di speranze che secondo me possono attingere rubare con gli occhi il mestiere a questi più esperti La mia domanda naturalmente era riferita a è impossibile creare subito per la prossima stagione quello che viene definito l'instant team cioè già un organico pronto per vincere immediatamente o magari naturalmente come avviene nella maggior parte delle programmazioni c'è bisogno ancora di un pochino di tempo Noi dobbiamo essere la squadra zanzara dell'anno prossimo quella che è sempre antipatico avercela attorno i numeri ci sono per farlo l'esperienza c'è io sono convinto che assolutamente convinto e certo che il gruppo portato avanti da Giangio da Andrea Gianni possa ricoprire questo ruolo e Roma possa diventare un campo difficile per tutti come obiettivo ovviamente l'obiettivo minimo che lo dico è la salvezza per noi l'anno prossimo per cercare di costruire un percorso di ulteriore maturazione dei giovani che abbiamo nel roster poi vediamo se magari raggiunta il prima possibile la salvezza uno non pensi a qualcos'altro le prime due le vedo oggettivamente vedo oggettivamente Cuno e Trento una spanna sopra tutti quanti e poi ci siamo tanti fra cui pure noi Ecco allora dobbiamo parlare inevitabilmente anche un po' di calcio le vorrei chiedere sempre se vuole se desidera una riflessione sul momento del Siena che è pronto a questo campionato importante per risalire la china dopo la retrocessione di questa stagione Antonio Conte alla guida della panchina bianconera insomma ecco qual è il futuro anche del Siena? Il futuro del Siena è un futuro di ricostruzione io ho preso la società da cinque mesi sono intorno al presidente e la situazione che ho trovato all'interno della società come numeri e come organico quindi sia la parte economico-finanziaria estremamente pesante che la parte sportiva non si confanno a come io immagino un gruppo, un team per esempio quello della Roma Volley quindi il lavoro è tutto un lavoro di ricostruzione le prime pedine importanti sono arrivate Giorgio Perinetti, Antonio Conte sono tutte risorse umane di grandissima esperienza di grandissima voglia perché il campionato di Serie B è un campionato molto duro e quindi secondo me la differenza la faranno gli stimoli la faranno come queste persone questi dirigenti, l'allenatore riuscirà a stimolare riuscirà a pungolare i giocatori è ovvio che per noi l'obiettivo è uno solo è quello di riuscire a tornare rapidamente in Serie A e il gruppo che si sta formando è un gruppo di persone che hanno tutta una loro storia umana molto importante alcune molto belle e che vogliono dimostrare che poi se la possono giocare in Serie A Chiudo chiedendole una riflessione sulla vicenda Unicreditital Petroli, Presidente una sua riflessione quella strada iniziata quella storia cominciò con mio padre che fece una telefonata a Franco Sensi e poi dopo noi uscimmo perché era giusto che l'entusiasmo la passione la voglia che aveva la famiglia Sensi di portare avanti la Roma e che ha dimostrato nei fatti sia economicamente e sia con il dispegno di energie e di tempo ottenendo dei risultati storici per questa città perché poi a Roma si vince quello che ha vinto la famiglia Sensi e che ha vinto la Roma sotto la sua gestione lo si vince più o meno ogni 25 anni quindi rispetto, chapeau è una famiglia che ha veramente dato tutto e quindi la mia riflessione è quando ho letto gli articoli che si era chiuso un po' l'affare mi sono sentito come se si fosse chiuso pure un capitolo della mia vita e quindi mi sento pure di ringraziare la famiglia Sensi per quello che ha fatto perché hanno portato a Roma grandissimi giocatori tanto spettacolo hanno fatto divertire secondo me tanti tifosi romanisti e questo a prescindere dalla valutazione degli ultimi mesi e degli ultimi anni deve essere sempre chiaro nella memoria di tutti i tifosi romanisti le nostre due famiglie hanno salvato la Roma e poi quella famiglia ha portato a Roma risultati che erano tanti e tanti anni che non si vedevano mi sento di ringraziarli perché hanno fatto veramente una cosa importante per la Roma l'imprenditore Massimo Mezzaroma risponderebbe positivamente ad un eventuale ingresso per una cordata insomma si parla di tante cordate è proprio l'impossibilità do anche solo a pensarci volendo ma volendo ripeto non è proprio un ragionamento non è un ragionamento che neanche mi passa presto io adesso ho in testa il Siena che è già una bella catta da pelare è una bellissima sfida forse per un punto di vista una sfida ancora più bella che invece prenderla a Roma e gestire quello che è oggi, ieri col Siena abbiamo cominciato a costruire un qualche cosa partendo più o meno da zero mi piace di più